Teo vieni. Allora questa non è preparata quindi non garantisco per la riuscita di Teo. Allora ci sono un po' di libri, che sono arrivati. Sai che giorno è oggi? Oggi è il 21 aprile. Praticamente quello che noi stiamo facendo con questi libri oggi si festeggia sostanzialmente. Dato che sono arrivati nuovi libri adesso mi aiuta a sistemarli. Sei contento? Una meraviglia. Adesso li prendo. Però puoi anche mostrare i nuovi libri che sono arrivati. Avevo 12 anni una volta. Sono arrivati i libri interessanti per i nostri clienti. Se volete venire a vederli. Il prossimo sarai tu a prendere un libro da questa bacheca. Ci sono nuovi libri molto interessanti. James Peterson. Tra i quelli già presenti più tanti che sono già andati. Vuoi salutare? Allora vi saluto con un bel libro che parla della storia dei Templari. Tutto questo alla casa delle cafferie bugugiate nella parte esterna del negozio. Certo. Perché dentro non ci sta più niente. Quindi abbiamo dovuto metterli esternamente. Fra un po' arriviamo anche sulle marciapiede la strada. Ora... Ciao. 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 Grazie a tutti.